E' rimasta ferita a seguito di un'esplosione una persona dipendente dell'Amaco, azienda dei trasporti urbani di Cosenza, avvenuta mentre alcuni operai stavano procedendo allo smantellamento di alcuni mezzi alimentati a metano. Le condizioni del ferito che ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stato portato nell'ospedale dell'Annunziata sono gravi. Il fatto è avvenuto all'interno del deposito dell'azienda di trasporto pubblico cittadino. Secondo una prima ricostruzione, mentre gli addetti erano impegnati a lavorare sul mezzo per cause ancora in corso di accertamento, si è innescata un'esplosione che ha coinvolto anche un altro dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato il ferito in ospedale.